Siamo venuti oggi al Teatro Gioiello perché c'è un bello spettacolo, Cuori Scatenati. Di cosa parliamo? Cuori Scatenati è una commedia di sentimenti, di tradimenti, di rapporti di coppia, però anche molto tenera e molto molto divertente, sia per il pubblico e anche per noi, perché ormai sono due mesi che stiamo in giro per l'Italia e ci divertiamo ogni sera, quindi è uno spettacolo veramente divertente ed esaltante per noi farlo. Perché qui abbiamo rapporti di coppia ma anche i ritorni di fiamma. Eh? L'autore è lui! Hai qualcosa di questi ritorni di fiamma? No, non mi credo. Niente, non infatti anche in questo caso. Soprattutto per lo spettacolo, no. No, perché in realtà io e lui che insiste, io non ci porta perché sono buona e accetto, ma diciamo che come nella vita, anche sul palco i ritorni di fiamma, io non ci credo. No? No. Vedremo. Sono minestre di scaldare. Però poi a un certo punto in questa coppia, diciamo come sono le coppie, le coppie sono Maria con Diego, giusto? No, e siete sposati o siete solo una coppia? No, allora, loro due sono sposati e stanno divorziando. Sì, 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 quello sì. E poi questo ritorno di fiamma che avrà il condito Francesca, ma a un certo punto arriva un elemento destabilizzante e che elemento destabilizzante... Destabilizza molto, tutti. Che è Sergio? Dinamite. La calamità. Calamita, calamità. 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 Sì, lui sconvolge proprio tutti gli equilibri. Sì, senza... Direi senza volerlo, alla fine, dai. Sì, come nella vita. Non ti rendi conto? Non ti rendo conto. No. Succede. Ci parlate un po' dei vostri personaggi, che caratteristiche hanno, come sono nello spettacolo? Ognuno dice l'altro. Dai, è carina. Ognuno, sì. Io dico, lei è cattiva. È cattiva e mi fa male. Non è vero. Oltre un carattere un po' sanguito, la donna che va a caccia, che spucia gli animali. Molto, molto guerriera. Come vuoi che sia. Però sono buona. Per me è una sola. Sì, e poi... Basta. Basta, non possiamo dire altro. Però sono buona. Per te, com'è Maria? Per me Maria è, diciamo, la sicurezza, ma anche... Com'è Maria? È una persona un pochino da temere. Mentre Kicca rappresenta proprio l'amore e odio, rappresenta proprio l'amore e odio. Quindi c'è sicuramente affetto, però c'è insopportazione dopo anni di matrimonio. Però io sono buona. Ma quale buona? Ma che buona? Lei continua a dire che è buona. No, non lo staremo a vedere. Diego è un insicuro. Invece c'è stato cattivo. No, Diego è un preciso, vuole fare le cose fatte bene, quindi insiste per vedere se facciamo bene a divorziare. È uno di quelli che fino all'ultimo, insomma, c'è perché è buono. È buono. Sergio, poverino, è proprio lì, non si sa perché. Sergio a me rompe tutte le uova nel paniere, quindi io non lo sopporto, lo tratto malissimo. Invece a me, Sergio, mi piace tantissimo. Ma chissà perché. Secondo me, non so, avrà notato i capelli ricci, non so, il cuore. Un'altra parte, ma no, neppure, no, neppure, no, le mani, lì è affascinato dalle mani. L'aluce, 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 insomma. Secondo voi, quali sono gli elementi che destabilizzano maggiormente le coppie? Ce l'ho. Vai. All'uomo la donna, la donna l'uomo. Ah, il genio è pesiero. Questa la sapevo, la sapevo. Ha studiato. Ha studiato, ha studiato. Per me è l'essere rompiscale, cioè il cosa non vorresti in un uomo? Eh, che ti dico? Che rompe. E poi un uomo mollaccione, un uomo che gli va sempre bene tutto, ma si fa quel che vuoi. No, invece no, un uomo proprio di potere. Sì, però non deve rompere. Questo è fondamentale. Quindi qualcosa che è impossibile, che non esiste. Vogliono il macio, ma micio. Un macio, un micio. Eh, dove lo trovi? A noi ci piace ricostruirli tutti gli uomini, poi quando li abbiamo ricostruiti come ci piacciono a noi, li lasciano più. E se ne abbiamo sbagliato. Il famoso detto, io amai le rose che non costo. Esatto. Ecco, ecco, ecco. E invece per voi, la donna come deve sta? Come noi. Ma guarda qui, sì, certo, le donne ideali sono loro, le donne perfette. No, diciamo, in questo spettacolo la cosa destabilizzante è il passato che ritorna e il futuro che incumbe. Eh, ma non so che è meglio, eh. Ma insomma, non lo so. Comunque per me la donna deve essere un po' più leggera. Pensare che gli uomini non ragionano come le donne, gli uomini ragionano in maniera lineare e non a zig e zag come le donne. Ma è uguale che stiamo dicendo la stessa cosa, è uguale. E quindi se solo appunto la donna capisse quando parla degli uomini che in realtà non si parla di una donna ma si parla di un uomo e quindi di un essere completamente diverso, forse si riuscirebbe a trovare un punto d'incontro. Ma anche che ci importa. Parlo. Ci importerà o non ci importerà. E invece per te, Sergio, la donna come deve essere? Come noi. Io concordo abbastanza con Diego, nel senso che basterebbe veramente non far pensare troppo le cose. Nel senso che a volte si dà troppa importanza a delle cose che hanno importanza per lei. Ma per te no, tu dici. Quindi per te. E quindi bisogna capire che si è comunque diversi. Accettare forse un po'. E vivere di ferendo. Quello super. Ma è molto 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 difficile. E' facile a dirsi ma poi alla fine quando si si trova uno di fronte all'altro è piuttosto impossibile. Anzi, non impossibile però a momenti è possibile, ecco, solo a momenti. Ecco, parlando di relazioni, notavo che in questa stanza, vedete le foto, c'è un po' tante corna. Cos'è? Un segno? Chi ha decorato la casa? Ma io entro qui e la schifo sta casa, dico, madonna mia, ma che... Già da questo mi inquieta. La fedeltà, come dice l'autore, è una scelta, è un'imposizione, che sarà? È uno stile di vita. È uno stile di vita? Non si sa. Questo è un argomento che è sempre recente, lo era del passato, lo sarà del futuro. Le corna? In generale. Il tradimento. Il tradimento. Però non è una commedia sul tradimento, ma proprio sui rapporti umani, sui rapporti umani. No, ci tengo a dirlo perché tante volte se tu dici, beh, è una commedia che parla di corna, sembra subito, no? È una commedia assolutamente leggera, però veramente parla di rapporti umani tra persone, di coppia, di distruzione, di fascino, insomma. Ma comunque è vero che le corna sono alla base, poi, anche di un sacco di commedia teatrali. Ma c'è un perché, perché intanto siamo uomini, quindi come uomini, poi faccio lo cinico, aspetta un po'. Lo cinico. Lo cinico. Lo cinico. Lo cinico. Uomini, quindi, mammiferi, non esistono mammiferi monogami. Non esistono mammiferi monogami, quindi... Mi fa un po' preoccupare, perché sono felicemente sposata da più di vent'anni. E noi, sto domandando... Basta sapere la realtà. Ma cosa c'è? Che cosa accadrà? La vera natura, ecco. Dici, la natura comunque per l'uomo è il senso. E poi noi, essendo ovviamente uomini, quindi essendo scienzienti, pensando e capendo le cose, possiamo anche modificare i nostri istinti e dominarli. Ecco, alcun altro... Si può fare, però l'istinto è... L'istinto c'è. L'istinto c'è, sia per il maschio che per la femmina. Quindi diciamo che il pubblico in alcune cose si trova, secondo me tanto, tanto, tanto. Tantissimo. Sì, sì, dai, però insomma, poi alla fine vedrai, vedrete, siamo buoni. No, ma la cosa forte veramente in questi mesi di repi che abbiamo fatto in giro, in realtà questi sono personaggi tutti molto divertenti, forse anche un po' estremizzati, eccetera, però in realtà molto veri, molto reali, siamo tutti un po' quei personaggi là, ma quindi c'è sempre qualcosa di noi. E secondo me è questo che fa tanto ridere la gente, perché poi ride di se stessa in realtà. Fino a domenica al Teatro Gioiello, le prossime tappe? Dopo siamo al Benga, a Liguria, andiamo a Busseto vicino Parma, a Rio Saliceto, nelle Marche. Quindi proprio salite, scendete, riosalisciate. Quindi non so, avete l'immagine di una pagina Facebook per trovare le vostre date, con i vostri personali, quindi cercateli. Facebook di cuori scatenati, e poi a parte i nostri personali, però c'è anche proprio la pagina Facebook dello spettacolo. Ragazzi, io vi ringrazio, in bocca al lupo per lo spettacolo. Grazie. Ringraziamo e salutiamo tutti gli amici che si seguono dal web su donningava.com e tutti i telespettatori invece di GRP. Alla prossima.